A me, a parte che, voglio dire, è venuto tutto, allora io quasi non mi sono accorto di quello che stava succedendo, perché la prima volta, cosa è successo? Che, ecco intanto una cosa anomala, era che la direzione spirituale veniva fatta non in uno studio, ma nella camera del sacerdote. Allora, io una sera dovevo fare direzione spirituale, quando entrai, lui mi disse, mettiti a tuo agio, mettiti tranquillo e parliamo, come stai, come sta andando, ecco, io sono una persona, ero un po' ribella, perché lui mi ha detto, sento che sei un po' critico, ecco, beh, siccome sto vivendo questa fase, che devo capire, ci sono delle cose che mi vanno bene, delle cose che meno, ecco, quindi sto capendo anch'io veramente e sto prendendo atto di alcune cose. Allora lui mi ha detto, ma non devi aver paura, siamo qui, e lì ha cominciato a, naturalmente, a toccarmi, a prendere, io non mi rendevo conto, ecco, nessuno può capire che cosa succede in quegli attimi, in quei momenti, nessuno, ecco, può rendersi conto, purtroppo, se non lo vive, che cosa gli succede. Sentirsi la mano, ecco, che tocca il corpo altrui, cioè una mano estranea che tocca il mio corpo. Non mi era mai successo nella mia vita, è uno che mi tappa la bocca e che mi dice, però non devi parlare, non devi assolutamente dire nulla, perché altrimenti sono guai. Ecco, io me ne sono andato fuori e sono scappato e sono stato fuori una notte intera. Ho viaggiato e ho vagato per tre viso, piangendo in lacrime e dormendo su una panchina. Poi sono rientrato la mattina e me ne sono andato in camera e sono rimasto in camera tutta una giornata. Ma poi questa cosa è continuata, perché comunque io ricevevo continue minacce, stai attento, guarda che. E quando ho chiesto di non fare più direzione spirituale con questo sacerdote, mi ha detto, va bene, allora lo farai con il mio vice. Quando sono stato dal vice mi ha detto, ma scusa, perché ti comporti così? Perché sei così critico? Noi assolutamente ti vogliamo bene, siamo qui per aiutarti, per farti capire. E da lì è ricominciata di nuovo la lecidiva di un altro sacerdote, il quale appunto il primo per sette volte, il secondo per quattro volte. Ecco, quindi questa è una cosa. Io appunto nella mia cassetta postale ricevo ancora minacce, le ho ricevute, sono stato fermato per strada, c'è stata una telefonata che è stata registrata, che vanno i magistrati. E quindi che cosa devo fare? Ero completamente, sono completamente, io dovevo vivere, devo mangiare, devo andare al lavoro, quindi assolutamente non me la sentivo di… però a un certo punto non ce l'ho più fatta e nel momento in cui nell'intimità appunto senti che qualcosa, ecco, non… senti quando una persona veramente con verità, con tutta la forza, con tutto l'amore ti dice dimmi, dimmi, allora a quel punto non puoi sottrarti, è impossibile sottrarsi ed è quello che mi è successo.